Conosciamo tutti l'esistenza di due diversi modelli di camper, un modello con finale e un modello senza finale. Il finale ci serve per poter collegare una cassa passiva. Senza finale non abbiamo nessun problema se possiamo permetterci di adoperare queste casse qui o comunque se ci interessa e se ci piace. Il vano che c'è a disposizione in un sistema camper senza amplificatore può ospitare degli amplificatori paralleli che già esistono in commercio. Personalmente ho voluto realizzare qualcosa di mio, soprattutto qualcosa di molto low cost che avesse le caratteristiche necessarie a queste funzioni di cui stiamo parlando, quindi una potenza adeguata, un controllo semplice e una serie di protezioni importanti che ho voluto inserire in più. Come pilotiamo l'amplificatore che abbiamo inserito? Abbiamo il monitor volume e il monitor EQ con cui andiamo a variare il volume con cui ci sentiamo in palco o il tipo di suono, con più bassi, con meno bassi, con più alti eccetera, abbiamo l'equalizzatore a disposizione. Oltre al semplice stadio di amplificazione ho voluto aggiungere qualche possibilità in più per controllare meglio tutto quanto, quindi ho inserito un fusibile solamente della sezione amplificatore, il nostro camper è indipendente di conseguenza nei collegamenti, ho inserito un ponte per la corrente tra uno e l'altro sistema così dalla ciabatta tiriamo un cavo solo, ho voluto mettere l'ingresso dell'amplificatore e l'uscita monitor out sulla stessa linea per collegargli un cavo piccolino da poter poi gestire anche in trasporto lasciandolo collegato. Ho inserito uno switch di lift che ci permette di collegarci e scollegarci all'impianto di terra per eliminare ronze come del resto la camper ha già predisposto su tutte le uscite che abbiamo. Inoltre sia per una questione estetica che per una questione funzionale ho inserito all'interno un led ad alta luminosità che ci permette di controllare se lo stadio di alimentazione che è separato dallo stadio finale di amplificazione sta lavorando correttamente. Ho scelto di fare l'amplificatore con un ingresso mono appunto perché il monitor out è un'uscita mono però con la possibilità di collegare due casse che non andranno in parallelo perché pilotate ciascuna da un finale indipendente quindi abbiamo proprio 100 più 100 watt. Se non dovessimo collegare nessuna delle due casse o solo una delle due il finale non ha nessun tipo di problema di carico. L'inserimento all'interno del camper è molto semplice togliamo le otto viti andiamo ad inserire nel vano l'amplificatore che si incastra perfettamente rimettiamo le otto viti colleghiamo i due tre cavetti necessari e siamo già pronti ad utilizzarlo. Personalmente sto utilizzando questo sistema già da sei mesi in varie situazioni in varie location ho avuto anche la fortuna di poterlo adoperare all'Alcatraz di Milano dove la potenza quindi 100 più 100 watt in realtà io non adopero solo 100 sono stati più che sufficienti. Grazie a tutti.